E allora Erbonne diciamo parte seconda abbiamo visto prima i 5 che abitano o meglio 3 dei 5 che abitano all'interno del paese questa è la seconda parte del nostro tour di quest'oggi perché ad Erbonne e chiaramente non possiamo farvelo vedere perché non abbiamo la connessione perché siamo proprio al confine con la Svizzera dalla parte di là c'è la Svizzera ma negli anni scorsi qui c'era l'epopea del contrabbando, tanti contrabbandieri ma tanti anche finanzieri e allora che cosa hanno fatto? Qui ad Erbonne l'associazione nazionale dei finanzieri della Val di Intelvi ha creato questo che è il museo del contrabbando ecco vedete qui c'era proprio il valico di Erbonne, proprio il confine italo-svizzero Sindaco è così giusto? Sì è così Qui c'è un pezzo di storia La storia del contrabbando Il contrabbando è proprio da qua, qui c'era la caserma Ira Casasco, qui c'era un distaccamento c'erano due o tre guardie che facevano praticamente la rotazione e lì il contrabbando La Svizzera è già lì giusto? Sì, praticamente arrivavano, c'erano questi sentieri e qui curavano la zona poi i contrabbandieri aspettavano che magari diventava buono per passare e sopra c'erano questi sentieri che portavano poi verso la Val di Intelvi dove andavano e queste bricole venivano caricate e portate magari sul lago Le famose bricole, esatto, piene di sigarette La Val di Intelvi è anche questo La Val di Intelvi c'era l'agricoltura, qui erano la maggior parte tutti i contadini oppure uno prendeva e andava magari a Milano a lavorare oppure si guadagnava qualcosa Questo museo, adesso è diventato un museo gestito dalla Guardia di Finanza di San Fedele, di Centrovalle lo potete visitare, noi l'avevamo visitato anni fa lo potete visitare previa prenotazione perché ovviamente se no di solito è chiuso come avete visto Ed è questa piccola casetta che si trova proprio sotto il ristorante, l'Osteria del Valico che è quella lì, l'abbiamo vista l'Osteria di Erbonne Erbonne 940 metri in mezzo proprio alla montagna al confine con la Svizzera è stato dedicato, vedi, alla sezione, al CEO Salvini che è stato anche lui un finanziere è stato dedicato proprio a lui Mario, è anche un modo di comunque tramandare la storia no, comunque sia la si guardi, guardie ladri eccetera comunque anni fa questo è stato quando vengono le scolaresche che poi si racconta, diciamo vengono i finanzieri vengono qualche controbandiere ancora perché adesso poi l'età è un po' avanzata però ne è rimasto ancora qualcuno che raccontano questa storia questi ragazzi, questi studenti così rimangono un po' giasti di questo perché è la storia, noi dobbiamo sempre ricordare la storia dei nostri avi, dei nostri tenati insomma è un bel modo per tramandarle qui dentro, ripeto, chi vuole venire le invitiamo a venire a contattare il comune di Centrovalle o l'associazione appunto dei finanzieri della Val di Intelvi perché credo valga la pena venire a vedere poi il resto di Erbonne, sindaco, sono Pascoli e poi sopra c'è proprio l'Orimeo purtroppo una cosa che, una pecca che abbiamo che adesso vedi, una volta erano tutti Pascoli adesso il bosco sta venendo avanti e adesso ci sono ancora dei volontari che tagliano, tengono pulito però tra qualche anno, non so se ci saranno ancora e lì dopo sarà un vero problema perché il bosco poi prende tutto il Pascolo diventa dura perché è bello quando vedi il prato pulito, il prato tagliato è molto molto bello e ci sono tanti Pascoli questi sono Pascoli, ci sono dei cavalli, ci sono delle pecore come ti dicevo prima, qui erano tutti contadini non so quante mucche che c'erano perché ai tempi, proprio ai tempi ancora queste qui Erbonne erano all'alpeggio della Svizzera che venivano qua, infatti sono rimasti anche tanti Svizzera tanti hanno il doppio possaporto e poi quando, diciamo, c'erano un po' di anni fa questi contadini l'alpeggio poi è diventato Orimento ah ecco esatto, perfetto qui venivano l'inverno e l'estate andavano sull'alpeggio di Orimento da Erbonne che è qui, questo bellissimo borgo l'abbiamo anche visto completamente ristrutturato ma veramente in modo splendido da Erbonne a Centrovalle un quarto d'ora un quarto d'ora, sì sì, un quarto d'ora di macchina è un altro mondo, è un altro modo di vivere diciamo, ma abbiamo sentito i tre, dei cinque residenti ci hanno detto, noi da Erbonne non ce ne andiamo si respira proprio la tranquillità la pace Mario, sembra di essere in un altro mondo poi oggi è bene aggiornata un po' è un po' così qualche nuvola però, però si sta veramente bene è normale che poi viverci tutto l'anno specialmente poi d'inverno diventa un po' dura però se uno vuole e però ci hanno detto che lei non se ne vanno loro sicuramente se gli fai anche un'offerta una di queste ragazze che abbiamo visto ragazze signore che abbiamo visto hanno la casa anche a San Fedele ma loro rimangono qua ecco la mamma della Marinella che lei è la più anziana ed è il 26, questa signora e lei dì gli di spostarsi da Erbonne ma neanche se la porti via e come ucciderla sostanzialmente in effetti è vero bene Mario, grazie di averci fatto vedere anche questo pezzo di storia il nostro reportage in Val d'Intelvi con il Museo del Contrabbando e della Guardia di Finanza che è qua il Museo del Contrabbando, lo vedete? ecco, sì, in effetti il sottotitolo è Burlanda es Frusa du perché si chiamavano così, giusto? i finanzieri e i burlani poi c'era questa chiamiamola un po' rivalità ma ognuno faceva il proprio lavoro però poi terminato questo si trovavano la sera giocavano a carte insieme al bar o per poi ognuno usciti da lì poi ognuno faceva il suo e basta incredibile e vedete, ecco questo è qualcosa che c'è all'interno vedete le famose stecche di sigarette le scarpe dei Frusa du cioè i contrabbandieri e questa invece è la divisa dei Burlanda cioè della Guardia di Finanza è una storia che deve essere tenuta viva qui a Der Bonne bravo sindaco ciao